Benvenuti amici del canale, io sono Rosa Parlato e oggi vi mostro 5 idee tratte dai miei tutorial per i vostri regali 5 idee che potete ovviamente modificare a seconda dei vostri gusti tra le più semplici ovviamente che trovate tra i miei tutorial la prima idea è questo semplicissimo borsellino che non richiede nessuna abilità particolare ma solo la conoscenza di maglia bassa e catenella iniziamo vedete con delle maglie basse per tutta la lunghezza si ripiega semplicemente e poi a piacere aggiungiamo una chiusura possiamo ovviamente personalizzare la chiusura anche con un bottone magnetico un'altra idea molto carina è il portamonete ziguli con un punto di grande effetto in rilievo richiede la conoscenza della maglia bassa, della maglia bassissima e delle catenelle si inizia semplicemente come potete vedere con la lavorazione in tondo fino ad arrivare all'altezza desiderata la terza idea carina è quella della clic clac semplice perché verrà lavorata in tondo un sistema che si adatta a qualsiasi misura di clic clac quindi arriviamo alla larghezza della nostra clic clac e dopo lavoreremo solo l'eccesso per la chiusura ed ecco qui che la nostra clic clac sarà pronta altra idea, altro modello di clic clac, questa volta rettangolare anche in questa lavorazione che io lavoro con il cordino inda richiede la conoscenza di catenelle e maglia bassa dopo aver lavorato come potete vedere dall'immagine un rettangolo andiamo semplicemente ad aggiungere un piccolo laterale che lavoriamo direttamente al rettangolo e poi andiamo a cucire per poi inserire in maniera molto molto semplice la chiusura sopra un'altra idea molto molto semplice da realizzare sono questi portachiavi, questo fiocco a portachiavi in più strati andiamo a lavorare semplicemente delle strisce di cordoncino che poi andremo a chiudere in modo da realizzare questo effetto a fiocco nel box informazioni e nel primo commento sotto a questo video trovate i link per i tutorial di questi progetti che vi ho illustrato io vi ringrazio come sempre e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial